Uno stoico sinagra ferma sullo 0-0 il Torregrotta e con questo risultato trova un punto fondamentale Nella corsa per evitare la retrocessione si comincia subito il fallo di Fazio su Sciliberto Poi Rasà che manovra un pallone in mezzo si gira bene Isgro ma il suo tiro è debole Calcio di punizione Gregorio per Gaudio che di testa non trova lo specchio della porta È una partita vibrante soprattutto dal punto di vista agonistico Qui Rasà lavora ancora un pallone poi è costretto a indietreggiare C'è il fallo nei confronti di Fazio ma il direttore di gara non estrae i cartellini Poi si accende un parapiglia che si risolve con un nulla di fatto dal punto di vista disciplinare Ancora il sinagra con Gaudio per Fazio il pallone per Tuccio che tira sulla traversa Poi l'attacco del sinagra non riesce a ribadire in rete in qualche modo si salva il Torregrotta C'è poi un duello a centrocampo il fallo su Trovato e di Pintabona Anche in questo caso si accende un parapiglia però questa volta per l'arbitro è tempo di mettere mani al cartellino Al 44esimo espulso Pintabona il sinagra resta in 10 uomini tra le proteste della panchina locale Con il capanello di gente che accerchia l'arbitro Mirabella di Acireale Siamo nel secondo tempo subito questo scontro nel cerchio di centrocampo In questo caso è Giuffre che viene espulso dunque al 52esimo il sinagra resta addirittura in 9 uomini Con un tempo da giocare Le decisioni del direttore di gara lasciano davvero perplessi i giocatori e i tifosi del sinagra In doppia superiorità numerica il Torregrotta prova a sbloccare l'incontro Ci prova Sciliberto da lontano in entrambi i casi però la sua mira non è delle migliori Poi prima del triplice fischio per il Torregrotta ci prova anche Bonaffini con questo tiro cross Che supera abbondantemente la traversa della porta difesa da Durante Dunque uno stoico sinagra trova un punto prezioso per la sua classifica Ma soprattutto con questo pareggio rischia di decidere il campionato Il Torregrotta infatti adesso a meno 3 dalla capolista città di Sant'Agata E domenica nello scontro diretto dovrà provare soltanto a vincere per rimandare tutto ad un eventuale spareggio